Ciao a tutti amici, qui è Benny Compagnon e oggi siamo nuovamente su INAGALAXY FAR FAR Ritorniamo con i video a tema Star Wars, ricordiamo infatti che questo canale è interamente dedicato a questa serie cinematografica con un video un po' diverso dagli altri perché andremo a fare una top 10 dei 10 personaggi preferiti da parte mia ovviamente di Star Wars quindi si tratta di una classifica molto soggettiva, molto probabilmente non sarete d'accordo con me con alcune posizioni quindi nel caso in cui siete in disaccordo scrivete la vostra classifica personale nei commenti detto ciò vediamo un po' questa mia top 10 al decimo posto troviamo Giubecca, l'inseparabile compagno di viaggio di Han Solo e copilota del Millennium Falcon che rappresenta di certo uno dei personaggi più iconici della saga facilmente riconoscibile anche da parte di chi non ha mai visto un film di Star Wars in vita sua la fama è dovuta di certo al suo aspetto particolare da Wookie che gli conferisce una stazza che non passa mai inosservata anche per via del suo foltopelo ritrovato da solo sul pianeta Minban alle condizioni di prigioniero dopo essere stato liberato dalla cella per canali di Star Wars comincerà con quest'ultimo un'avventura galattica senza pari che lo vedrà testimoni e protagonista di alcuni degli eventi più importanti della guerra all'impero come la battaglia di Yavin in cui assieme al suo filato amico contribuì alla distruzione della temibile morte nera nonostante non parli in un idioma ben definibile la sua ingannatia, lo shriwok composto da versi simili a rugiti infatti è incomprensibile agli stessi personaggi umani della saga con le censure di Han Solo comunque le sue intenzioni e i sui umori sono ben percepibili dagli spettatori che subito cadono in empatia con lui che nonostante la sua bontà da personaggio positivo a volte non disdegna di sistemare le sue vicissitudini più problematiche con la forza brutta a nono posto troviamo non uno ma ben due personaggi emblematici della saga che per via del forte binomio che li lega sono stati inseriti nella stessa posizione ovvero R2D2 e C3PO noti per essere presenti in tutti i film della saga con l'eccezione di Solo o Star Wars Story i due costituiscono una coppia fissa cara a tutti gli appassionati protagonista non solo di sketch che costituiscono la linea comica della trilogia originale ma anche di momenti chiave della serie per cui senza di essi i nostri protagonisti sarebbero stati tremendamente in difficoltà basti pensare ad esempio a servizio di R2 durante la guerra dei cloni in cui interviene in aiuto dell'ordine dei Jedi salvando più volte la situazione R2 e C3PO sono stati inoltre i protagonisti a partire dagli anni 70 di un'incredibile campagna di merchandising che ha visto i due droidi, soprattutto il primo guadagnare una popolarità pari se non addirittura inferiore a quella dei Jedi o delle forze del male dei Sith su cui si basa la macro trama della serie ma la cosa più importante da dire su questi due personaggi è che nonostante i loro esseri droidi possono vantare una caratterizzazione che li rende empatici e flessibili emotivamente al pari degli altri esseri viventi diversamente dalla freddezza robotica tipica di altri otomi o robot appunto presenti in altri film o serie all'ottavo posto viene Ray, l'unico personaggio della trilogia sequel presente in questa classifica non confondetemi però non è che i nuovi film targati Disney non mi siano piaciuti in toto anzi a parte qualche eccezione ha adorato alcune delle nuove uscite come lo spin-off Rogue One l'unico problema è che a parte Ray nessuno dei personaggi introdotti in nuovi film è in grado di reggere il confronto con i mostri sacri che abbiamo conosciuto negli scorsi decenni di Star Wars soprattutto prive del fatto che credo che il continuo passaggio della sceneggiatura della nuova trilogia di una persona all'altra non abbia giovato la caratterizzazione dei protagonisti dei nuovi film che hanno avuto un'evoluzione scostante e abbastanza confusionaria da un episodio all'altro come Kylo Ren i cui tratti identitari del personaggio presentano tuttora passaggi confusi e poco chiari risultato di una gestione discutibile dello stesso solo dello stesso figlio di Han Solo Ray invece ha avuto un aiuto maggiore a emergere come personaggio simbolico della saga soprattutto per via del grande ruolo che le è stato affidato sin dal risveglio della forza di episodio 7 ovvero quello di protagonista spirituale della new generation di Star Wars divenendo così una nuova Luke Skywalker forte di uno screen time considerevole di un'evoluzione del personaggio favorita da un percorso che ha permesso allo spettatore di addentrarsi in maniera significativa nella sua psiche e nel suo rapporto con la forza un percorso che come nel caso di Kylo Ren ha avuto una conclusione che ancora divide il pubblico per quanto riguarda l'episodio 9 dove si è assistito a un colpo di scena che ha svelato le vere origini della ragazza legata a Palpatine come sua nipota diretta nonostante sia ancora ufficialmente Anakin il precedente della saga badando ai fatti visti sul grande schermo è innegabile che sia stata in realtà Ray a riportare il vero equilibrio nella forza eliminando una volta per tutte il villain principale della saga Darth Sidious in una scelta che come ha accenato poc'anzi ha fatto sorcere il naso a non pochi Yoda al settimo posto in questa classifica è forse lo Jedi per eccellenza gran maestro del consiglio di Coruscant è riconosciuto come il più forte cavaliere che l'ordine Jedi abbia mai avuto nelle sue gerarchie nonostante le sue origini tuttora poco chiare assieme a quelle della sua razza che sta per essere approfondita nella serie Disney Pass The Mandalorian è certo che questo oggetto interpretato nella trilogia originale da Frank Oz rappresenta l'incarnazione del lato chiaro della forza noto soprattutto per il suo buffo modo di parlare in cui l'oggetto viene messo prima del soggetto nella proposizione è il verbo alla fine Yoda non è affatto il piccolo e gracile alieno verde che sembra essere è uno dei pochi nella saga a poter dire di essere uscito vivo da un confronto con l'imperatore Palpatine a dimostrazione della sua tenacia e la sua forza superiore a quella di qualsiasi altro Jedi nonostante il suo fallimento nel prevedere il complotto Sith ai danni della Repubblica e le purazioni dei Jedi per mano di due Darth Yoda ha avuto il merito nella trilogia originale di aver completato l'adrestamento di Luke Skywalker iniziato da Obi-Wan ed aver così contribuito all'ascesa di una nuova speranza che avrebbe poi salvato la galassia dalle grinfie dell'impero nella serie di The Clone Wars veniamo a conoscenza ancora più nello specifico di altre grandi azioni compiute da questo personaggio sia in campo militare che amministrativo da solo infatti guida entri squadroni di cloni in battaglie incerte contro nemici temibili apparentemente imbattibili e si fa carico della formazione di intere nuove generazioni di Jedi peccato che Anakin Sesto posto per la principessa lei o generale Organa come viene chiamata nella nuova trilogia la principessa di Alderaan appartiene al gruppo dei mitici 4 che nel episodio 4 fece esplodere la morte nera fin dal primo momento fu chiaro che con Organa non si trattava della figura della classica principessa che l'eroe della storia in questo caso Luke Skywalker avrebbe avuto il compito di salvare il personaggio di lei è infatti giocorolo chiave nell'intera macro saga essendo la stessa leader della ribellione contro l'impero e successivamente della resistenza contro il più mordine personaggio molto idealista presente più tenace di quanto ne ne abbiano Luke Skywalker solo messi insieme e lei infatti l'unica che non dubita mai del vero fine del superato anche quando suo fratello un Jedi sembra vacillare nelle sue convinzioni nella nuova trilogia vi ha anche qualche accenno al suo rapporto con la forza anzi forse la parola accenno è una parola troppo debole in quanto nell'episodio degli ultimi Jedi vola per via di essa letteralmente ma comunque il suo ruolo più da stratega militare più da stratega militare che da guerriero come il fratello nella top 5 troviamo Luke Skywalker il protagonista della trilogia originale il caschetto biondo che sta di Nino D'Angelo ma che ha salvato la galassia intera se si guarda l'intera lord di Star Wars i grandi guerrieri che hanno fatto parte pare incredibile come un contadino sconosciuto di Tatooine senza alcuna esperienza bellica abbia potuto nel giro di pochi giorni sfruttare i suoi poteri della forza e sferare un attacco decisivo all'impero proprio all'apice della sua pericolosità evidentemente a buon sangue non mente Luke fa da raccordo alla vecchia e alla nuova trilogia le sue azioni hanno determinato un prima e un dopo nella linea temporale dell'intera galassia un personaggio che nella trilogia originale sembra quasi privo di difetti che pur vacillando in episodio 6 nelle sue convinzioni di lato chiaro comunque si ribella agli inviti dell'imperatore e riesce a riconvertire il padre alla parte benevola della forza c'è un problema però la persona più anziana di Luke nella nuova trilogia in cui vediamo un personaggio totalmente diverso da quello dei film originali commette scelte molto discutibili come il tentato omicidio e danni del nipote ben solo il comportamento e la caratterizzazione di Luke fra la vecchia trilogia e la nuova è ancora da definire perché è davvero inconcepibile come lo Skywalker che noi conosciamo abbia potuto agire in una maniera così poco da Luke Skywalker e di conseguenza in maniera diversissima da quella che eravamo soliti conoscere almeno sempre nell'episodio degli ultimi Jedi si è redento e abbiamo potuto vedere uno scorcio della forza della forza di volontà del giovane Luke che anche nella sua forma di fantasma della forza aiuterà poi i rei a portare alla conclusione della sua missione quarto posto per Palpatine nonostante Darth Vader sia riconosciuto come il villain più temibile della saga in realtà a livello di malvagità e di importanza Darth Sidious primeggia senza ombra di dubbio può essere infatti tranquillamente definito come il villain principale dell'intera saga di Star Wars capace di manipolare i Jedi e di farli entrare in una guerra senza fine scala le girarchie della politica galattica grazie all'aiuto di un potere oscuro che riesce a nascondere anche i soggetti più sensibili alla forza con cui entra in contatto ogni giorno ogni azione da lui compiuta ha un secondo fine più ampio non immediatamente comprensibile creatori di piani malvaggi che hanno conseguenze gravissime sull'intera galassia anche dopo che sembra essere stato sconfitto alla fine della vecchia trilogia sfodera il suo osso nella manica nel film successivo in cui anche se per buona parte assente si avverte comunque un'atmosfera inquietante che non può non ricondurre a lui l'unica vera minaccia alla pace nella galassia dalle ceneri dell'impero ritenta la conquista della galassia manovrando gli uomini lui fedeli a loro insaputa come Burattini al pari di un'ombra che non può essere fermata se non con l'armonia di un ordine gerio ancora in ricostruzione e da lui è nientato con un semplice ordine ancora anni prima Sidious è forse uno dei cattivi più astuti e malvaggi che il cinema abbia mai conosciuto non sono bastate tre generazioni di Skywalker da lui tutti manipolati in un modo o nell'altro per fermarlo ci voleva una sua diretta discendente il suo mancato successore una Palpatine Gredino più basso del podio per Han Solo la canaglia più famosa della galassia è anche l'unico personaggio di Star Wars al quale è stato dedicato uno spin-off tutto suo finalizzato a chiarire alcuni aspetti delle sue origini e incontri chiavi della sua vita come con Chewbacca e Lando Carrissian pilota del celebre Millennium Falcon uno dei simboli più distintivi della serie Han è forse il personaggio più carismatico della saga con il quale lo spettatore entra subito in empatia e un'escena con lui equivale a divertimento avventura assicurati è uno dei personaggi uno dei pochi personaggi della serie inoltre che potrebbe essere al centro di una vera e propria serie cinematografica basata su di lui vista la moltitudine di eventi di cui è protagonista nonostante rispetto alla maggior parte dei personaggi di questa lista non si è sensibile alla forza e si è più simile in antieroica a un personaggio positivo vero e proprio Han Solo inoltre ha anche il merito di aver lanciato nel cinema internazionale uno degli attori più famosi oggigiorno di Hollywood ovvero Ford Harrison Ford noto anche per i suoi ruoli dal protagonista in Indiana Jones e Blade Runner è un personaggio senza dubbio immortale che anche dopo la sua dipartita in episodio 7 avremo ancora la possibilità di incontrare come dimostrato dallo spin-off citato in precedenza o anche dalle innumerevoli opere secondarie della saga a lui dedicate Medale d'argento pro V1 o V1K e Nobby che senza dubbio lo Jedi più amato dai fan un personaggio con tanti misteri nella trilogia originale la cui background però è stata approfondita in maniera eccellente nella trilogia prequel e soprattutto nella serie animata dei Clone Wars dove abbiamo potuto vedere l'opera in svariate missioni belliche e strategiche in cui ha dimostrato tutto il suo potenziale Obi-Wan non solo il maestro di Anakin ma anche il suo migliore amico e gli ultimi due prequel si basano proprio sul loro rapporto a un maestro allievo che sarà determinante nella formazione dello Skywalker è uno dei pochi Jedi sopravvissuti all'epurazione è l'unico in tutta la galassia a convincersi e a convincere successivamente Yoda della possibilità di una rinascita di una nuova speranza che avrebbe minato l'impero alle fondamenta primo posto per Darth Vader che dire su di lui Anakin Skywalker è Star Wars è l'indiscusso protagonista dell'intera esologia principale nonché il personaggio più famoso dell'intera saga se c'è lui allora c'è Star Wars stiamo parlando del prescelto uno che con un'evoluzione introspettiva che trova pochi precedenti in serie cinematografiche di questo genere condiziona l'intera galassia la quale per via della sua conversione all'oscuro si inginocchierà la sua figura è quella del suo nuovo maestro Palpatine lui e la sua armatura da Sith hanno fatto non solo la storia di Star Wars ma anche quella del cinema e dell'intera cultura pop rendendo vedere un simbolo dell'intero genere sci-fi l'intera galassia si legge indirettamente sulle sue decisioni e il suo ritorno all'auto chiaro determina una sconfitta definitiva per il diabolico impero galattico bene ragazzi questa è la mia personale top 10 dei migliori personaggi di Star Wars a breve arriverà anche un video diverso da questo ma sempre sullo stesso stile ovvero i peggiori 10 personaggi di Star Wars e vi farò molto discutere perché ho messo tra l'altro anche un personaggio che a molti di voi piacerà e quindi vi farò un po' arrabbiare per così dire comunque ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e se vi è iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti